Primo tra gli atleti italiani impegnati nei mondiali Ironman in Austria è il risultato dell'aquilano Marco Madama, ex nuotatore, che porta alto il nome della città dell'Aquila in una competizione internazionale. Sì, è stata una grande soddisfazione aver rappresentato il paese in un evento così importante. Non siamo ancora soddisfatti perché vorremmo comunque provare a fare meglio nel prossimo anno dove saremo impegnati nel mondiale in Australia. Un risultato importante in una disciplina fatta di sacrifici e duri allenamenti giornalieri. L'Ironman racchiude fondamentalmente tre discipline sportive antitetiche tra loro e la difficoltà è proprio quella di dover preparare tre sport molto diversi quali il nuoto, la bici e la corsa. La difficoltà è quella di allenarsi comunque in una città con un clima difficile soprattutto durante i mesi invernali. C'è un responsabile della valutazione funzionale che è il dottor Massimo Angelozzi che mi segue per quanto riguarda i test biomeccanici, metabolici. Così pure il dottor Marco De Angelis che segue l'aspetto della valutazione funzionale e della nutrizione. Un successo che Marco dedica al suo allenatore. Devo ringraziare assolutamente Mario Di Massimo che è un amico fraterno, un allenatore. Veramente ha una pazienza infinita con me, mi segui in tutto e per tutto 24 ore su 24. A lui dico grazie e dedico questo successo personale.